Un caro saluto ai nostri telespettatori e benvenuti al consueto appuntamento con le nostre anticipazioni di cronaca. Salto alle poste del quartiere Santa Chiara. Stamani, poco dopo, l'orario di entrata degli studenti nelle scuole vicine. Ad agire due rapinatori armati di lama con il volto coperto da passamontagna. La coppia sarebbe fuggita a piedi con un bottino che pare aggirarsi attorno ai 2000 euro. All'interno dell'ufficio postale molti erano gli anziani presenti in attesa di ritirare la pensione. La direttrice dell'ufficio è anche stata colta da un malore in seguito alla rapina. Sull'accaduto indaga il vicequestore Alberto Somma. Nuovo blitz questa mattina degli agenti di polizia municipale presso il parco Cillarese. I controlli sono scaturiti da alcune segnalazioni giunte da parte di alcuni cittadini in merito alla presenza nel parco di extracomunitari senza fissa dimora. Gli agenti giunti sul posto hanno infatti notato la presenza di una decina di persone che alla loro vista si sono date alla fuga. Il luogo era stato adibito al ricovero ma le condizioni igienico-sanitarie riscontrate erano gravissime. Il riparo provvisorio è risultato lesionato e gravemente pericolante. Nei pressi dello stabile sono stati trovati anche resti di bestiari, oggettistica varia e qualche decina di biciclette. Il personale della Montecuo ha provveduto a rimuovere ogni resto e materiale inutilizzabile ed igienicamente pericoloso. Controlli sono stati effettuati poi in tutto il resto della struttura. La Guardia di Finanza di Brindisi ha dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo del castello Svevo di Ori. Ha emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, Paola Liaci, su richiesta avanzata dal sostituto procuratore della Repubblica, Antonio Costantini. Il tutto a seguito delle indagini che già nel 2011 avevano portato al sequestro probatorio dello stesso e che hanno riscontrato il rilascio di pareri permessi di costruire certificati di agibilità e collaudo tutti illegittimi. E i carabinieri di Brindisi hanno tratto in arresto in fragranza di reato Salvatore Antonio del Monte, 19enne del posto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 150 grammi di marijuana, 2,5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e altro materiale utile per il confezionamento della droga. E infine i carabinieri di Fasano hanno deferito in stato di libertà un 54enne per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con violenza sulle cose e alle persone. L'uomo, pantando un credito dal titolare di un'attività commerciale, è entrato nell'esercizio e dopo aver tentato di colpirlo con un bastone, ha danneggiato vetrine, attrezzature e la merce esposta. Il danno ha recato e tuttora in via di quantificazione. Lì nella regia c'è la pubblicità, vi aspetto in studio con tutte le altre notizie. Grazie 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 Grazie